Sono Antonino Barbarà e sono un regista, attore, lettore e professionista, nonché docente di lettura espressiva ad alta voce, recitazione e edizione. Oggi inauguro il mio canale YouTube. Perché un canale YouTube? Beh, innanzitutto perché vorrei farvi conoscere quelle che sono le mie attività, sia quelle che organizzo privatamente, sia quelle che vi vengono commissionate da enti pubblici, teatri, librerie, biblioteche, centri culturali, istituti scolastici, ma anche per creare un'occasione per potervi parlare periodicamente del teatro e della lettura espressiva e farvi così viaggiare nell'affascinante quanto vastissimo mondo della parola interpretata. Allora, vi lascio ai miei video, mi auguro che siano di vostro gradimento e se così fosse, ovviamente vi devo chiedere di cliccare mi piace, di condividere, di lasciare qualche commento e soprattutto di iscrivervi. Buona visione e a presto! Grazie a tutti! Perchè un canale YouTube? Beh, perchè vorrei innanzitutto... Non era così vera? Potevi far conoscere! Perchè un canale YouTube? Beh, innanzitutto per potervi archiviare... Vorrei intanto archiviare ovviamente i vari video, le documentazioni delle attività varie, che si acquentano... No, no, no... Non solo quelle che organizzo privatamente, ma anche quelle che mi vengono richieste, commissionate da teatri, organizzatori vari, scuole... Ah, ecco, quel foglio invece devi tenere quello... Quindi, di diavolo di... No! Un saluto a tutte e a tutti! Questo non ce lo mettiamo!